Piccolo aggiornamento per chi non avesse visto la live dell'altro giorno dove qualcosina avevo già detto. Allora ho contattato il professore e anche l'università Waseda e tra una cosa e l'altra sono riuscita ad avere un'estensione della scadenza per poter rifare domanda, per poter partire e andare a studiare all'Waseda a Tokyo da settembre in poi. Il che da un lato avrei preferito partire a breve, dall'altro visti i recenti sviluppi e tutto quanto, meglio così, diciamo che sto serena, non devo stare lì impiccata ad aspettare che succeda qualcosa. Ci sono tante altre cose burocratiche da sistemare, devo praticamente rifare tutto da capo, però la cosa principale, quella che mi aveva tolto più tempo la volta scorsa, è già andata, ovvero appunto spedire i documenti e effettuare l'iscrizione tramite il form appunto online. Ci ho messo due giorni, non mezza giornata, però grazie soprattutto all'aiuto di Andrea che aveva i file salvati nel suo computer, insomma sono riuscita a rifare piano di studi, ho alzato un po' l'asticella nel senso che avendo più tempo per studiare ho messo dei corsi che hanno un livello di giapponese un pochino più alto e soprattutto sono quasi tutti incentrati sui drama, è una cosa molto interessante. Da quello che ho capito, se ho tradotto bene le presentazioni dei corsi, molti di questi hanno bisogno anche di recitazione, cioè tu scrivi il tuo drama e poi lo reciti, altri sono proprio sulla lettura, sulla comprensione, però dovrebbe esserci sempre la parte dello spicci, come lo chiamano loro, e comunque una performance dal vivo a lezione invece che dover fare, scrivere dei papiri lunghi così di relazione che onestamente mi attirano un po' meno. Sono abbastanza stimolata, ecco poi c'è anche un corso di cultura giapponese dove ci faranno andare in giro e sperimentare varie cose relative alla cultura, allo sport, alla cultura giapponese, dallo sport alle arti eccetera, ma dai, mi dispiace un po' appunto che sarà a settembre, non è anche a livello pratico, mi incasina un pochino per gli esami e tutto quanto, a rischio di ritardare ancora di più la laurea, ma tanto ormai in questo periodo va tutto bene, va tutto bene, cioè va tutto bene nel senso ci accontentiamo di qualsiasi cosa. Per il resto sono sempre qua nel dormitorio, c'è più traffico di macchine adesso che prima, perché di qua non ce l'ha mai nessuno. Gente che passa, gente che corre, vabbè, io sono chiusa qua dentro, esco giusto a buttare la spesa, eh sì, a buttare la spesa, a buttare la spazzatura qua nel cortile del dormitorio e vado in mensa a procurarmi il cibo perché l'ho finito. E avventurarmi fuori a fare la spesa, non lo so perché come sentite sto molto meglio, non ho più la bronchite, diciamo, acuta, ma ho ancora un po' di, insomma, non sono guarita al 100%. Ecco, però, confermo che è la bronchite perché appunto curandola con l'antibiotico specifico è quasi passata in 3-4 giorni, quindi sicuramente non era alta. E per quanto riguarda il dormitorio, io ho mandato la mail all'ufficio per posto, non l'avessi mandata venerdì, l'avessi mandata un po' prima, sarebbe stato un po' meglio, ma vabbè, ero presa da questa cosa qua della Waseda e speriamo mi facciamo rimanere. Giù in portineria hanno detto, ma sì, per forza, perché è una situazione d'emergenza, tanto la camera non verrebbe comunque data ad altri in questo momento, quindi non dovrebbero esserci problemi, ma finché non vedo, non credo. In caso contrario non so bene cosa fare. Ieri è arrivata qua un'ambulanza e poi se n'è andata via col dormitorio, quindi sta serpeggiando un po', mi sembra, il panico, e da tutto il casino che sentivo fino a ieri, tutta la gente assembrata, adesso mi sembra che siano tutti un po' più separati, anzi sento tra l'altro litigi, ho già sentito un paio di litigi belli feroci, quindi si sta meglio da soli, io sono tranquillissima, quindi mi faccio le mie cose, mi sono appena finita di vedere una serie su Netflix, la prima stagione di Beastar, carina, dai, mi sta intrigando, sembrava una cosa invece poi molto più profonda, così unanime, e adesso partirò con qualche drama e nel frattempo continuo a studiare, ieri mi sono fatta 6 ore 6 di lezione online, tanto che sono dovuta andare in cucina a dire ragazzi, cioè io quando accendo il microfono sentono voi invece di me, perché erano di là che gridavano tutti in cucina, però niente, no, sono andata abbastanza bene queste lezioni online, tranne l'ultima di Giapponese 3, non per la lezione, lezione è andata bene, è andata male per me, perché non ho il libro di testo, non ho il libro di testo, quindi non ci ho capito niente, cioè ascoltavo giusto per, e mi sono fatta mandare da una mia amica le foto delle pagine del libro relative ai compiti per lunedì, quindi non è facilissimo tramite foto, insomma sul cellulare mi trascriverò tutto, cioè le foto si vedono abbastanza bene, però penso appunto che mi trascriverò tutto, niente, così parlo giusto per parlare, tanto che ci avete da fare, ascoltatemi facciamo prima, e concludo confermandovi che domani sera, domenica alle ore 9, ci sarà la live dove intervisterò Davide di Ti va di Giappare, quindi non perdetevela perché sarà molto interessante, potete fare anche domande sulla lingua giapponese, lui sarà ben lieto di rispondere, quindi ci vediamo domani sera, ciao ciao!